Una iniziativa degli amici del palco, un gioiello disegnato dai bambini e poi realizzato da un laboratorio orafo. Una bella iniziativa, il perché di questa iniziativa? Abbiamo condiviso il progetto non solo l'8 marzo dell'amministrazione comunale, quindi ci siamo inseriti in un mese dedicato alla donna. Infatti esce come donna e creatività il progetto. Noi abbiamo coinvolto, grazie anche ai soci, i plessi scolastici, il primo e il secondo circolo, dove molti bambini, come si può vedere, hanno presentato degli elaborati. Ci hanno stupito le motivazioni dell'elaborato, non solo il disegno che è bellissimo, ma pure il perché di quel disegno, con delle motivazioni molto molto belli. Poi, grazie alla realizzazione di un gioiello fatto dalla signorina Sicari, che ha vinto questo concorso, è stato realizzato dal laboratorio orafo C&G della signora Plateroti Giovanna. E' arrivato due esemplari, di cui uno verrà consegnato alla vincitrice e uno sarà invece sorteggiato per un aperitivo cena, che sarà domani sera presso il Metropolis di Torinova, il ristorante e pizzeria, dove saranno raccolti per un fondo di beneficenza e per attrezzare due laboratori artistici da consegnare a due plessi scolastici, la Contestabile e la Pascoli, Montellone Pascoli e la Contestabile. Una curiosità, quanto disegni sono stati realizzati dai bambini e dai ragazzi delle scuole medie? A nostra sorpresa circa 200 bozzetti di disegno ci sono arrivati, anche da adulti, ma molto da bambini. Sicuramente c'è stata molta sinergia con le maestre delle scuole, che hanno giustamente impegnati i ragazzi in questo progetto, perché effettivamente da questo è nata anche l'idea di attrezzare questi due laboratori artistici, perché vediamo che c'è molta creatività nei ragazzi e dare a loro gli strumenti per poterla manifestare e quindi attivare per noi è molta soddisfazione.